ok ragazzi, suoli, eccoci qui con la seconda partita e con l'ultima tranche di domande quante te ne restano? 12? 13? 12? sì, 12, 13 più o meno vediamo se riusciamo a completarle tutte, sei sempre tu il caposquadra ovvio, ho la vibra, la vibra, ok siamo rimasti a quante sono le regioni italiane che nel frattempo io durante il caricamento le ho contate e posso dirti con certezza che sono 20 ok, allora vai uccidami, no no sono giusto no mi ha ucciso con la granata ma non ci credo, era quasi morto aspetta che adesso vado a prenderlo perché non accetto questa cosa sì 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 allora, dove sei? uh, kill ok, mi hanno distrutto, quindi passiamo alla seconda domanda la pasta alla carbonara è un piatto tipico di? o del, dipende se vuoi regione o città la carbonara la mangio però, in tutta onestà, non saprei dirti da dove arriva ma non ci posso credere ah no, io non mi faccio domande sul cibo, lo mangio e basta, sostanzialmente vabbè, ok ehm, boh, te la butto lì non uccidetemi carbonara di la regione, dai sembra tanto una roba del sud Italia ti ho salvato dai, tira la lite, voglio farle tutte ti ha butto lì Puglia no, Lazio, è di Roma ah, buona sapersi tanto fa 5 minuti me lo sono già dimenticato, ma ok va bene dimmi quando muori che ti faccio la prossima ok, sono molto ok chi ha vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2016? Leonardo DiCaprio ok almeno lì eh beh ed è una vita che però aspetta che cambia una prima aria perché vediamo se il mio titano ha qualcosa di decente no, il mio titano non ha nulla di decente oh, che granato, signori miei aspetta che vado a trovare il tipo qualche tipo da uccidere comunque io sto giocando meglio facendo sta cosa che io non voglio immaginare sentire le mie domande e pensare alla risposta e giocare sei più concentrato riuscirò a uccidere qualcuno? no, sì, ok, l'ho ucciso, perfetto vai con la prossima ottimo qual era la risoluzione, cioè in termini numerici, del full HD? intendi 1920x1080 bravissimo ok domande così a caso proprio vai uccidi ma c'è gente che ancora non lo sa quindi aspetta che ne trovo uno con calma ok, l'ho ucciso perfetto, perfetto, perfetto oddio che ci sono anche le pesanti da chi era interpretato Ian Solo di Star Wars? classica domanda che so la risposta ma non so dirti al momento il nome è lo stesso tipo che ha fatto anche Indiana Jones se non sbaglio bravo il fuggitivo è tantissimo anche prima in senso degli innocenti so che anche che spoiler muore su Star Wars ah no ok, non posso dirtelo perché tu non l'hai visto ops non so perché ma c'è in testa George Clooney ma non è George Clooney no è Harrison Ford bravissimo vai eccolo lì certo mi fosse venuto in mente subito avevo anche le munizioni del lanciarazzi e avrei fatto strage sai com'è Harrison Ford me la pagherà lì ok ucciso ok Kojima è il creatore di? Metal Gear è Metal Gear solido bellissimo dai che ho la super vado a fare strage ok ucciso aspetta che io mi leggo la prossima che ha vinto la Champions League di calcio nel 2015 che era la Juventus di mezzo ma l'ha persa Manchester? no Chelsea? di morire chi cazzo l'ha vinta? è una squadra spagnola ti do l'ultima possibilità e Real? boh non so no Barcellona è Barcellona vabbè vabbè calcio fa schifo quindi ti piace vincere facile e infatti ho fatto apposta ok vai sono morto comunque ok qual è la città più popolata del mondo? questo onestamente non la sapevo io ti direi Tokyo perché è una delle metropoli più grandi ma non ne sono certo al 100% probabilmente sarà qualche città della Cina sproduta no sproduta no ma secondo me sproduta proprio no Cristo secondo me è in Cina e ti direi ti confermo che è in Cina ma anche lì non ne ho la certezza secondo me no Taiwan non è in Cina al momento boh Nankino non penso proprio non mi ricordo Hong Kong no niente cos'è che è? Shanghai beh l'unica che non ho detto mi sembra 24 milioni siamo alle ultime siamo alle ultime comunque sparami l'altra domanda veloce 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 vai chi è il giocatore di basket considerato il più forte della storia? questo mi sembra tipo che la gente conosce solo lui mi sembra tanto banale perché anche io sostanzialmente conosco solo lui quindi ti direi Michael Jordan e te lo dico anche ma bravo bravo ci mancherebbe altro mi sembrava tanto banale Michael Jeffrey Jordan fenomeno idolo della mia vita ok ho ucciso ne mancano due chi è Bruce Wayne? facilissimo sei forse stato tu Bruce Wayne? no sei tu un attore si banale e quello che fa mi sono io invece sapevo il personaggio chi è Bruce Wayne non l'attore battoman eh grazie non si sa mai eh aspetta che qui non c'è più nessuno anche perché sennò poi Brian mi uccideva poi ti faccio l'ultima domanda è proprio la banalità ok vai comunque l'ho ucciso anzi facciamo la domanda di riserva qual è il più grande canale italiano del mondo? vabbè quello è scontato che sia ShanksTube no il ragazzo è The Guardian chiaramente eh stupidini cosa andate a pensare? il mio è il secondo ti regalo un'uccisione ti regalo un'uccisione e poi come terzo c'è quello di Manuel ovvio vai vai sono morto comunque farvi l'ultima domanda chi ha creato la serie Halo e Destiny? ma questa è la domanda più difficile che tu potessi farmi sono tentato di risponderti Microsoft Sony o Nintendo ma forse anche Naughty Dog ma boh dai trabutoli Bungie ma aspetta che vado a controllare dai che c'è un nemico qui anzi aspetta chiudo il gioco e lo riavito come si chiamano dai io approfitterei visto che abbiamo concluso si faccio un po' di uccisioni quello sei guadagnato uccisioni gratis e andiamola a vincere eh si ce la possiamo fare forse aspetta vai che ho anche la super anch'io dai manca una kill vai vai no stavo usando la super mi ha uscito questo col fucile a pompa non siamo neanche usciti a vedere proprio che è tristezza vabbè dai concludi tu questo video visto che è stato il mio host il mio ospite vai concludi ti lascio bene ragazzi spero che che vi sia piaciuto questo video di avervi trattenuto con queste domande risposte sì sì vi abbiamo proprio trattenuto con la corda legata ai polsi legati alla sedia speriamo di avervi divertito un po' con questo video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se vi abbiamo divertito qui sotto in descrizione ci sono sempre tutti i nostri contatti di social network quindi seguiteci anche lì e ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ciao ciao a tutti Grazie a tutti.